Eccola qua, finalmente la Andy Timmons, la T100 Che in tantissimi in Italia abbiamo aspettato Perché questo strumento è stato prodotto in una quantità molto molto limitata Un po' di anni fa E in Italia ne erano arrivate tipo una dozzina che sono andate a ruba E da quando Andy è diventato ormai un'istituzione nel nostro paese Questa chitarra è veramente molto molto ricercata Finalmente Ibanez ha deciso di ripare questo modello Esattamente come quella di Andy In ogni minimo particolare Per cui con il suo ponte Wilkinson stile vintage Con le meccaniche sparse autobloccanti Chiaramente fatte in Giappone dal custom shop dell'Ibanez Con tutte le cure del caso Finalmente sarà disponibile penso dalla metà del 2009 nel nostro paese Per cui andate subito a prenotarlo Perché mi sa che anche se non ci saranno problemi di distribuzione Andrà sicuramente a ruba Ok? Hi! Hey everybody! This is Andy Timmons Speaking to you from Anaheim, California January of 2009 And I'm very proud to announce the re-release of my original Ibanez signature guitar This one's called the AT100 CL CL meaning classic Because it really is an exact replica of my original signature guitar It basically has all the same features that I've always enjoyed The Spursdale locking tuners As I prefer the non-floating traditional style bridge The DiMarzio pickups that I've loved for many years The DiMarzio Cruiser in the neck in the middle The custom humbucker, the AT1 And the best feature is this neck This no-finish, wonderfully shaped Very comfortable, inviting neck That just inspires you to want to play a lot And I'm just now picking up this prototype That I'm feeling for the first time And it's amazing This guitar feels great And I'm going to have to like steal it Don't tell anybody Don't tell anybody I can't even say has my name on it We don't put my name on it for a reason Because I don't want people to only want to You know, because it says a name on there I think players, even if they know my playing or not Are going to love this You pick the guitar up and it inspires It's got the tone and the versatility I know And it's it for me, man So I hope you get a chance to check it out If you don't, ask Stefano He's got one I'm not selling it Ciao Ciao See you in Italy soon, I hope Thank you Arrivederci